gentili telespettatori buona giornata vi ricordate il famoso spelacchio il triste albero di natale voluto da virginia raggi il vento del cambiamento e quel vento aveva portato spelacchio un albero di natale tutto spelacchiato triste oggi dopo spelacchio arriva fotovoltacchio è un albero di natale al centro di roma circondato dai pannelli solari una roba che non si può guardare la roba cioè ma il pannello solare serve per illuminare l'albero senza pagare la luce elettrica sì ma sto albero di natale l'albero di natale una cosa dovrebbe essere una cosa bella da vedere non brutta tu mi fai un albero di natale e me lo circondi da pannelli fotovoltaici alti credo che siano alti tutti intorno almeno almeno due metri messi inclinati la roba che non si può vedere non si può vedere siamo a piazza venezia al centro del centro di roma quest'anno alla base dell'albero fanno una bella mostra è un modo modo di dire quale altro che bella mostra grandi pannelli fotovoltaici una scelta della giunta di roberto gualtieri il sindaco pidino perché volevano dare un segnale per la crisi energetica dai immaginatevi voi a casa che il vostro albero di natale in giardino sia quasi completamente nascosto da dei pannelli fotovoltaici perché voi dovete risparmiare dice ma piuttosto lascia stare o fai l'albero e ti puoi permettere la luce se no lascia perdere se mi fai l'albero circondato dai pannelli fotovoltaici facciamo ridere il mondo non mezzo mondo ma il mondo intero come fanno notare in molti nei siti protetti dall'unesco installazioni energetiche di questo tipo non sono consentite sulla barricata si erge il sottosegretario alla cultura vittorio sgarbi che annuncia richieste di provvedimenti alla sopraintendenza speciale di roma e definisce i pannelli solari di gualtieri una finta battaglia ambientalista diseducativa perché lì il centro di roma è reputato dall'unesco patrimonio dell'umanità e metterci i pannelli fotovoltaici all'interno di zone altamente di un altissimo valore culturale eccetera eccetera non è consentito mentre gualtieri dice mi consenta ci metto il pannello il pannello solare e solo pertanto secondo voi roma può risparmiare veramente dei soldi con i pannelli fotovoltaici intorno all'albero di natale un albero bello grosso è e non è spelacchiato non è non è veramente uno spelacchio è solo fotovoltacchio nel senso è che la bruttezza di quest'albero non sta nello spelacchiamento perché spelacchio era spelacchiato questo albero è bello da vedere ma la sua bruttezza è nei pannelli solari non nella spelacchiatura quindi torniamo di nuovo a imbruttire che non è il milenese imbruttito ma qua è il romanesco imbruttito vabbè cosa sto dicendo ma che stai a dire ecco lo spelacchio è insomma diciamo che intanto mettessero dice sgarbi pannelli fotovoltaici sulla nuvola di fucsas sui capannoni infiniti lungo le autostrade ho già fatto una storica battaglia per i centri agricoli proverò a fare un accordo per la tutela del paesaggio dice sgarbi io direi meno male che sgarbi c'è va bene rilievi di sgarbi respinti da gualtieri quello che canta con la chitarra bella ciao io sotto l'albero gli metterei pannelli fotovoltaici e gualtieri che canta 24 ore su 24 bella ciao bene è così il comune di roma respinge quello che dice sgarbi secondo il comune di roma i pannelli solari promuovono la cultura della sostenibilità in un delicato momento storico legato alla crisi internazionale quanto consuma fotovoltaio 5,5 kilowatt ora invece di arrivare dalla rete verranno autoprodotti dall'impianto fotovoltaico e l'energia accumulata permetterà una riduzione delle emissioni di anidride carbonica di oltre 17 chili al giorno d'accordo d'accordo direbbe vanna marchi ma i pannelli si possono mettere a piazza venezia sì o no ma la sovraintendenza riporta che l'utilizzo dell'impianto deve considerarsi un'eccezione e non può costituire un precedente nel centro storico di roma sito dell'unesco ma il rappresentante consigliere regionale della lega daniele giannini dice ma c'è anche un problema estetico dopo spelacchio arriva fotovoltacchio dove è finita la vera magia del natale romano possibile che la capitale d'italia non possa avere un abete degno e bello come le altre più grandi metropoli del pianeta e sì questo è il dubbio perché noi dobbiamo avere spelacchio fotovoltacchio non sarebbe meglio lasciar perdere ogni anno il natale a roma lasciamo perdere non mettiamo nessun albero di natale mettiamo x mass come come hanno fatto togliere la scritta perché x mass che è l'abbreviazione per dire praticamente buon natale se non sbaglio x mass andrebbe a riferirsi con la mente alla decima flottiglia motoscafi d'assalto la decima mass del principe junio valerio borghese che tentò poi il colpo di stato nel 1970 in italia ecco quindi non possiamo mettere neanche x mass potrebbero al posto che l'albero la prossima volta mettete una bella scritta buon natale e felice anno nuovo punto tutto illuminato è al posto dell'albero fate una roba così sto buon natale che gira no vabbè perché gira e girano grazie a tutti e buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video al prossimo spelacchio al prossimo fotovoltacchio grazie pd grazie gualtieri forse era meglio che continuavi a suonare con la chitarra anche oltre bella ciao anche altre musiche caratteristiche potresti suonare jingle band grazie a tutti e arrivederci